Noi ci aspettiamo che i soldi vengano restituiti molto prima dei due anni di cui hanno parlato. Come lo farete? A noi non ci interessa. Trovate il modo. Le responsabilità istituzionali ci sono. Qualcuno, ne ha tanti o pochi, non c'entra. La gente faceva affidamento su questi soldi. Io il lunedì, che sono passato anche io giù in via Gallina, ho visto le vecchiette piangere con sto libretto. Ma vi rendete conto di cosa avete fatto? Le avete uccise. Voi avete ucciso una città. Vergognatevi, vergognatevi. Una persona non può vivere tutta la vita di preoccupazioni perché abbiamo soltanto una vita, non dimenticatevelo. Perché i professionisti sono impegnati, i soldi non ci sono e salvo che non intervenga la regione come dovrebbe doverosamente intervenire, di questa cosa ne piangeremo per un bel pezzo. Sono da dieci anni che si parla di cooperativi operaie ed è stato sempre tutto quanto coperto. E pubblica questa cosa qua, non lo sto dicendo io. Ma infatti io mi auguro che lei faccia i nomi e inizia la giustizia. Aspetta, e non c'è problema. Si ha fatto tre interrogazioni in regione e si è beccato le querele. Io credo che i lavoratori... Si è beccato le querele. Ho perso noi i soldi, cosa vi scaldate voi? Se non si scaldiamo noi che abbiamo fatto le robe, siamo un di qua. Stiamo portando le nostre motivazioni in un contesto di discussione civile e voi vi scaldate. Ma cosa vi scaldate che avete perso voi, Bori? Ma la gente che ha perso i soldi, di cosa stiamo parlando? Di rabbia nei confronti di chi doveva controllare questa situazione, consiglieri di amministrazione, sindaci, società di revisione e regione. Come cambierebbe la sua vita perdendo questi soldi? La mia vita è già cambiata dalla delusione che ho provato. Parlando delle persone anziane, quanta vita hanno ancora? Un giorno, un mese, un anno? Se poi queste persone muoiono prima, i soldi a chi restano se non hanno eredi per poter tirar fuori? O non sono delegati nel libretto?